Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Gueltaleale, eccoci qui con MotoGP13, Misano motori che passione con questa Ducati in copertina e vediamo noi ragazzi allora a questo punto chi possiamo sfidare, scelta avversario, allora in più vediamo cosa c'è, queste fanno cagare, quindi direi anche no, questa qui è in più rispetto alle altre e quest'altra che prestazionalmente è meglio la Yamaha, vediamo c'è anche questa, no la Yamaha è meglio, anche se la Yamaha di solito è un po' più, ah la Ducati è ancora no, fenomeno dobbiamo essere per Ducati, Honda e Yamaha, dicevo di solito la Yamaha è un po' più cosa, un po' più sgorbutica rispetto alla Honda che ha sempre uno stile di guida più controllato, più tranquillo tra virgolette, e vabbè allora vediamo Smith o Crutchclaw, se non sbaglio Crutchclaw va un po' più veloce, andiamo a vedere nel mondiale come stanno, Crutchclaw infatti è settimo, Smith invece è quindicesimo, quindi direi Smith, andiamo a sfidare Smith va, se riusciamo a rubare un posto nella, nella Yamaha Monster non è male come cosa, non è male, vai, cerchiamo di, dove cazzo vado, me l'ha messo Bradley Smith, ok perfetto, vai, proviamo Misano a fare questa, questa sfida cazzuta e cattiva, anche se comunque come detto, Misano è una pista un po' difficile, quindi non so come possa andare, e la Yamaha tra l'altro questa Monster è quella che avevamo provato nel primo video che avevo fatto lì di MotoGP sulla Laguna Sega per vedere i danni che riuscivamo a fare appena preso il gioco, e come detto abbiamo fatto parecchi danni, quindi adesso magari vedremo come sarà dopo la nostra esperienza nell'arco dei vari GP, delle varie categorie, se magari sempre se riusciamo ad arrivare a quel, a quel team che comunque è abbastanza competitivo, se la moto si comporta anche piuttosto bene, non sarebbe neanche male che tra l'altro adesso che ci sto pensando, non abbiamo visto in realtà di sfidare qualche pilota, perché io effettivamente a Ducati vado subito a vedere quella ufficiale, però non ho visto se tra quelle c'era una Ducati non ufficiale da poter sfidare credo di sì, però a quel punto effettivamente la Ducati è ancora meno è ancora più sgorbutica della Yamaha, quindi non so fino a che punto riusciremo a guidarla, però vabbè poi vedremo perché noi come abbiamo visto effettivamente con il team Electric Power, che la moto era più veloce di questa nonostante abbiamo fatto un solo GP a semi-pro, quindi magari c'era un po' da prenderci la mano però con questa mi ci trovo meglio, perché lo stile di guida è un po' più morbido, tra virgolette mettiamolo sul medio sempre il Traction Control, anche se consumiamo magari un po' più di gomma però la vedo più reattiva la moto quindi quel po' di reattività in più ci fa comodo magari metteremo le gomme dure vediamo intanto come va questo primo giro, perché vorrei farne uno solo a bomba, a bomba mamma mia noi a questi curvoni andiamo bene, perché ci buttiamo proprio a testa bassa qua se non sbaglio era il GP dove avevamo provato a difficoltà reale che effettivamente forse è uno dei GP più difficili avevamo provato proprio qui a difficoltà reale che qui la pista è molto stretta, quindi non è facile riuscire a fare una traiettoria pulita vediamo con questo tempo se riusciamo a rientrare tra i primi dieci non credo, perché sono a pochi decimi quando manca ancora tanto di solito negli ultimi minuti mi sbalzano via forse no, attenzione infatti questa volta non ci hanno sbalzato via perfetto, abbiamo fatto addirittura il miglior tempo grande vale, grande vale 47 e 46 così io sono l'agente 47 quindi ci distinguiamo così cazzo i due italiani ci manca Dovizioso però vabbè la Ducati non è estremamente competitiva quindi sono un po' dietro le altre Ducati quindi Dovizioso non non lotta davanti agli altri anzi vabbè non è basato sui risultati del moto mondiale però Rossi va molto bene diciamo molto più della della realtà al momento purtroppo di qualifiche mentre dalla nostra postazione possiamo già vedere i meccanici che si stanno dando un grande affare per preparare si mi sa che il tempo sta cambiando andiamo subito in pista va magari viene a piove vabbè 15 minuti durano quindi facciamo subito un giro cazzuto allora vediamo no rimettiamo un basso medio cerchiamo di rifare un giro bello tosto perché anche qui conviene partire davanti cioè ovunque conviene partire davanti qua ancora più perché la vedo molto dura superare se non in quei due curvoni larghi cioè larghi tra virgolette noi prendiamo a bomba quei curvoni quindi ok qualche piccola sbavatura però vabbè vediamo se riusciamo comunque a fare un tempo decente questa è un'altra curva abbastanza difficile merda ma va sti cazzi sai che ci facciamo un secondo giro a bomba a bomba oppela un po' lunghi siamo andati leggerissimamente lunghi ma va bene perché noi rientriamo così sportivizzanti avevamo fatto 1.33 se non sbaglio nelle prove libere quindi direi che un altro giro ci sta cerchiamo di non fare errori dai cazzo che dobbiamo cercare di partire più avanti possibile perché se no qua ci iniziamo ad arrotare dobbiamo guadagnare più position possibile in queste qualifiche allora questo come detto è una curva un po' difficile perché dobbiamo rallentare meno alla prima in modo tale da arrivare un po' lunghi e ritrovarci posizione giusta per la seconda qua dobbiamo piegare al momento giusto merda ok l'abbiamo fatta estremamente sportiveggiante va bene va bene ok dai che non è male questo giro 1 33 0 va bene dai vediamo poi in gara metteremo come detto le gomme dure dietro e morbida davanti grande vai vai due italiani due spagnoli un inglese spagnolo spagnolo pieno vabbè vai cazzo vai noi e il doctor dobbiamo cercare di far casino doctor come sempre io ti pago un po' di tasse tu però mi tieni dietro quelli ok t'apposto ci organizziamo in questo modo dai cerchiamo di fare gioco di squadra riuscirai a batterlo ma ci proviamo buongiorno buongiorno a tutti gli appassionati di motore in ascolto siete collegati col Misano World Circuit Marco Simoncelli per la tredicesima gara della classe MotoGP ciao SuperSiche ci manchi sempre un sacco come potete vedere al momento il cielo è coperto da uno spesso strato di nuvole ma nonostante questo gli ultimi bollettini meteo hanno rassicurato tutti sul fatto che non pioverà beh dai allora cerchiamo di vincere la MotoGP qui per dedicarla al SIC allora anche noi ci uniamo al saluto di Guido Meda come prima cosa no sto sbagliando come prima cosa cambiamo gomme e mettiamo al posteriore anteriore morbida posteriore dura facciamo dura che se no arriviamo alla fine che siamo troppo in difficoltà no andiamo perfetto dai mi raccomando ragazzi tifo da stadio tifo da stadio per me è Rossi Rossi però devi fare un po' da tappo come detto ci siamo organizzati un po' per pagare le tasse la a Londra le cose vabbè questi sono i dettagli che poi ci vedremo no guarda là impenna sempre a giovine ma che cazzo ti fai passare Pedrosa perché tu devi impennare aspetta va non ci penso io a Pedrosa non deve scappare non deve scappare eh vabbè ma che cazzo fai mi tamponi pure tu a Rossi e porca puttana guarda quella ma cazzo oppela scusa Rossi non fa cazzate dai porca puttana no guarda che culo no 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 mi ha pure sfondato la moto no io cazzo gli ho dato pure una spinta per farla andare più veloce no si lo uso così il flashback perché Pedrosa non deve avere vantaggi da me sono arrivati ad un pelo da dalla mia moto li ho sentiti grande Rossi scusa t'ho un attimo frenato però che cazzo devo fare Marquez ha superato Pedrosa grandi così Rossi mi raccomando so che la tua moto va molto più veloce della mia però che cazzo devo fare ho la Guardian io va bene così va bene così abbiamo fatto un po' un po' larghina attenzione ce l'ho incollato dietro devo cercare di guadagnare più possibile per non fare io da tappo perché sennò poi vengono sopravanzati da Pedrosa infatti no vabbè Marquez forse infatti Marquez preferisco Valentino magari che guadagni più punti però vabbè adesso magari faremo da tappo a Marquez ah no ho fatto il giro record pure Marquez quindi sta andando a bomba non è solo colpa mia Rossi però resisti a Pedrosa mi raccomando ci tengo ci tengo vai tienili impegnati io nel frattempo vado che avrei da fare ho dei piccoli impegni quindi vai grande Rossi sorpasso su Marquez così maledetta curva portiamo il predominio della MotoGP in Italia cazzo lì sta lottando con Pedrosa e Marquez spiace Rossi ma non ti posso dare una mano al momento cerco di andarmene io in amicizia poi qua le facciamo sempre estremamente sportiveggianti ma fa parte della tecnica è così è così speriamo che resiste Rossi perché abbiamo bisogno di lui sì ancora avanti le due onda sono dietro pedrosa quarto Lorenzo sesto ottimo così ho fatto anche il giro record attenzione la gomma sta resistendo abbastanza bene essendo dura quindi ci permette di non consumarla e nonostante magari non abbia il grip della morbida però dai adesso saremo no 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 cazzo ma non è possibile sta merda di cardion ma vacca puttana tanto per far sto cazzo di combinazione io e Rossi io Rossi e dietro gli altri ma stavo a dire che la classifica era quasi perfetta ma vaffanculo vabbè io ravvio quando è così non posso non ravviare vabbè ragazzi speriamo che arrivata tutto bene ma è impossibile riavere Rossi dietro Lorenzo che primo nel mondiale era sesto e pedrosa era quarto quindi vacca puttana beh vabbè se ripartiamo così mannaggia la puttana sta cardion è la seconda volta che ci lascia a piedi ma che cazzo fai porca puttana ravvia cazzo è la seconda volta che ci lascia a piedi era pure l'ultimo giro mi sa non è già la puttana pure l'altra volta ci aveva lasciato a piedi all'ultimo giro eravamo primi come sempre quando ci lascia a piedi adesso ci sono partiti ancora peggio guarda qua merda si ho fatto dopo il ravvio ma stavo chiacchierando quando bisogna spiegare delle cose non si riesce a guidare pedrosa porca la puttana guarda il figlio di Troy e basta non so che sta succedendo dietro e non lo voglio sapere marquez supera pedrosa ma rossi vogliamo rossi anche se ormai ci siamo persi il magic moment guarda questi ma dopo dite che li ha non è testa di cazzo vai grande rossi adesso supera anche marquez te lo fermo io non so se riesco non credo io qua devo andare a bomba perché se no mi recuperate in un attimo quindi devo fare un po' una guida sportiveggiante spero che attenzione rossi forse si era insinuato o sbaglio no dai rossi dai rossi attenzione perché qualcun altro aveva superato ah no è lorenzo merda avevo visto una yamaha però non cioè una moto blu più che yamaha effettivamente era lorenzo no era meglio che lorenzo rimanesse dietro perché comunque adesso dove cazzo sta aspetta ridammi la classifica maledizione lorenzo terzo no fanculo quindi rossi si è affossato vabbè adesso riprende anche marquez lorenzo eccolo la e quindi niente è andato così vabbè ma ogni volta che le combinazioni perfette si stanno per per realizzare sta cardion infarta di nuovo vabbè vediamo se si scannano un po' là dietro magari lorenzo supera la marquez già l'aveva superato o sbaglio no vabbè niente purtroppo non siamo riusciti a fare un gp decente cioè nel senso non noi gli altri perché la classifica di prima era perfetta pedrosa era quarto che è secondo nel mondiale rossi secondo che comunque ci va bene due italiani lorenzo era sesto quindi perdeva un bel po' di punti adesso invece niente lorenzo secondo pedrosa quinto però non ce ne frega niente vabbè pensiamo a noi va tanto che ce ne frega poi per adesso puntiamo a fare più punti possibile noi tanto comunque il mondiale non è che l'avremmo potuto vincere siamo a segare dalla fine quindi punti in palio ce ne sono ma massimo possiamo recuperare qualche forse qualche altra posizione siamo quinti certo da come si era messo il mondiale all'inizio è ottimo anche un quinto posto eravamo a meno 80 punti o una cosa del genere all'inizio tra ritiri e ultimi posti vabbè naturalmente con la fisica semi pro tutto ci ha aiutato ma come detto l'intelligenza artificiale ci ha obbligato a fare questa cosa merda merda no non voglio usare flashback poi tra l'altro mi sa che non ho già l'ho usato non ho 5 quindi uno devo averlo usato ok vabbè meno che non muore adesso il rettilineo no ok attenzione perché forse lì dietro ma no mi sa che non ce l'ha fatta lorenzo è arrivato secondo vabbè pazienza ragazzi che dobbiamo fare noi ce l'abbiamo messa tutta sta cazzo di cardio ogni tanto c'ha degli infarti vaffanculo vediamo la classifica mondiale abbiamo guadagnato qualcosina 5 punti giustamente perché noi 20 lorenzo 25 andava indietro cazzo di lorenzo maledizione vabbè è andata così ragazzi mi raccomando commentate ditemi cosa ne pensate di questa guardian che ogni tanto ha degli infarti purtroppo il suo colesterolo è un po' altino quindi andiamo sempre a rischio però la stiamo portando più in alto di quanto fosse mai stata questa moto ebbè scusate a parte che la guardian avrebbe bisogno di qualche altro lavoro in più perché ogni tanto cede comunque come detto ragazzi noi ci vediamo con il prossimo GP che adesso andremo a vedere qual è la tappa perché non me lo ricordo mancano 5 gare alla fine del mondiale cerchiamo almeno di vincere tra l'altro abbiamo vinto dedicata a Marco Simoncelli la nostra vittoria andiamo a vedere a Aragon in Spagna ci trasferiamo e ci vediamo allora ragazzi con il prossimo video mi raccomando mettete un bel mi piace come sempre commentate e ci vediamo alla prossima un saluto a tutti da Quel Taleale grazie a te